Tutto viaggia sulla rete, sul web, formazione per questo fondamentale. Presentato dall'assessore regionale a ramo Pietro Quaresimale, il nuovo avviso sulla formazione continua che finanzia corsi nei settori del turismo e dell'innovazione digitale. A margine si è parlato anche di scuola e quindi delle priorità in vista della riapertura. Assessore, presentazione del nuovo avviso sulla formazione rivolta a chi? Rivolta a imprenditori, lavoratori abruzzesi che devono essere sicuramente all'avanguardia in questo momento di transizione al digitale. Ormai tutto passa sul web, sulla rete e quindi noi vogliamo che i nostri operatori siano preparati e all'avanguardia soprattutto nel mondo del turismo in cui vogliamo formare gli operatori turisti che sia appunto in grado di veicolare il nostro prodotto abruzzo. Questa misura però è dedicata appunto alla digitalizzazione, ad avere esperti in questo mondo che è di fondamentale importanza perché tutto viaggia come dicevo sulla rete. Parliamo di scuola. L'obiettivo è il ritorno totale in presenza. Lei ha incontrato in videoconferenza il ministro Bianchi. Che cosa è emerso? Sì, c'è stato un primo incontro l'altro giorno con il ministro Bianchi. L'obiettivo è di stare in presenza al 100% perché abbiamo visto le criticità della DAD nell'anno passato. Come Regione Abruzzo abbiamo finanziato l'acquisto per i termoscarner, per avere una prevenzione. Faremo delle giornate di sensibilizzazione per cercare di convincere tutte quelle persone che hanno prenotato la vaccinazione ma non sono andati, cercare di coprire tutto il personale scolastico e non solo. Poi ho rivolto al ministro un'esigenza particolare che è quella della sanificazione e degli spazi. Il ministro mi ha garantito che metteranno diversi soldi e per di più stiamo lavorando anche sui trasporti. Faremo anche un comunicato stampa o meglio una conferenza in cui annunciamo un'app che permetterà agli studenti di avere la contezza delle presenze sugli autobus, eventuali disguidi e quant'altro. Tutto tramite app a proposito di app di digitalizzazione. Il Green Pass come si inserisce nell'argomento scuola? Quello che possiamo fare in questo momento insieme al responsabile della vaccinazione Maurizio Brucch è fare queste giornate appose per cercare di raggiungere una percentuale che al momento è il 42% degli studenti e vogliamo arrivare quantomeno al 60%. Anche perché il Premier Draghi è stato chiaro, anzi direi che ha gelato i contrari al vaccino. Sì, leggevo sulla stampa questa cosa. Il ministro mi è sembrato un po' più caudio da questo punto di vista. Vedremo che cosa emerge dalla conferenza Stato-Regioni.